A scuola, nel bosco, quale modo migliore per celebrare la festa nazionale dell'albero? Un evento entusiasmante per ogni scolaro, ma che può diventare ancora più prezioso se si fa progetto. In occasione della giornata dell'albero sono tante le iniziative promosse dagli istituti scolastici per educare gli alunni al rispetto dell'ambiente. A Pescare il Comprensivo 5 ha inaugurato uno spazio en plein air che accoglierà i ragazzi una volta al mese grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali della Biodiversità. Siamo la classe quarta D dell'Istituto Comprensivo Pescara 5 e le mie colleghe, io sono Gabriella Crisante, le mie colleghe Ivana Ruggero e Donata Natale hanno lavorato in prima persona per preparare questo lavoro. Siamo entusiaste perché il contatto con la natura sicuramente ci darà la possibilità di studiare le materie curriculari però da un punto di vista proprio dell'ambiente, del bosco. Veremo qui una volta al mese per tre, quattro ore a seconda delle condizioni climatiche e i bambini avranno la possibilità di fare veramente scuola però all'aperto e a contatto con la natura. Quindi siamo certi che sarà un'esperienza molto arricchente per loro e anche per noi. E a Chieti, sempre con i Carabinieri Forestali, nel giardino della scuola dell'Hollis è stato piantato un albero di leccio. Mister Leccio è il nome che i bambini hanno scelto per questo albero, anche questo in collaborazione con i Carabinieri Forestali, un albero che ha un QR code che geolocalizza e quindi racconta anche la vita di questo albero, quanta aria buona viene reimmessa in atmosfera grazie alla crescita di questo piccolo leccio. È un momento bellissimo, un momento in cui i bambini incontrano l'ambiente ed è quello su cui noi stiamo lavorando dall'inizio del nostro mandato. È un'iniziativa che il Comune ha condiviso con i Carabinieri Forestali. E a proposito di verde, presto ci sarà un'altra novità. La riqualificazione di un'area a Chietiscalo, in via Casalbordino, che abbiamo scelto proprio perché è accanto a tre scuole e che in qualche modo sarà destinata ad essere vissuta proprio dalle scuole e dai bambini che ci fanno tanta didattica. Abbiamo riqualificato quello spazio, venerdì 25 lo apriremo alla città e sarà un momento bellissimo ed è un gesto concreto che grazie alla collaborazione con Formula Ambiente e i Carabinieri Forestali oggi noi doniamo alla città in occasione della Festa dell'Ambria.